Ecco, un'altra battuta significativa, almeno per me, che assieme a tanti colleghi stiamo portando avanti questo progetto da quasi due anni. L'iniziativa è partita dal Veneto, è partita da Padova, siamo stati promotori di questa rete d'impresa, sono otto aziende che per compenetenza e per distribuzione geografica, tre napoletane, una di Roma, una di Milano, quella di amenazione dei notai appunto cappeggiati da Riccardo Genghini e tre venete, Padovani in primis, è nato questo progetto, è un progetto che fa leva sull'esigenza della categoria dei commercialisti di liberarsi dalla vischiosità delle procedure solo cartacee e dobbiamo riprendere a insegnare e a cambiare la cultura aziendale degli enti anche pubblici perché oggi l'economia globale richiede liberare risorse, come dicevo anche poco fa, e quindi investire le risorse in ambiti che portano efficienza e quindi innovazione e quindi competitività.